Bene ragazzi, per lo speciale 26 video vi ho voluto far vedere le mie uova di Pasqua La prima è quella di Pokémon, che avete notato tutte e due Queste uova di Pasqua nel video non è DesiDuy Però, come poi vedete, c'è Meo, Pikachu, Eevee e Snorlax, ma tanto so già che voi sapete chi sono E Doraemon Doraemon purtroppo non c'è, quindi non può vedere questo uovo di Pasqua Ma ragazzi, ce n'è pure un altro di là? Che però non è che si veda più di tanto Comunque ragazzi, spero che voi abbiate una buona Pasqua Saluti, lasciate un frutto